Svolta nelle indagini sui pirati della strada che martedì scorso hanno investito in due distinti incidenti un anziano di 72 anni di Venafro e Paolo Marchesani, l'uomo di 48 anni di Colli a Volturno, deceduto all'ospedale Cardarelli di Campobasso. Grazie alle testimonianze e alle immagini della videosorveglianza, i carabinieri del comando provinciale di Sernia hanno individuato gli uomini ritenuti colpevoli dei due incidenti. Stando a quanto si è appreso, sarebbe stato un giovane motociclista di Venafro a investire Paolo Marchesani. Il ragazzo, caduto a terra nell'impatto, si sarebbe rimesso in sella senza fermarsi a prestare soccorso. Per questo dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Dietro di lui, su un'altra moto, suo padre, fuggito allo stesso modo, ora è indagato per omissione di soccorso. Intanto la comunità di Colli è ancora sotto shock per l'episodio accaduto. Dal sindaco Emilio Incollingo, l'appello per rendere le strade più sicure. L'impegno da parte delle amministrazioni e da parte degli antigestori delle strade deve essere quello di aumentare la sicurezza attraverso vari dispositivi come rallentatori, indicazioni semaforiche, magari le rotatorie. Sicuramente l'individuazione del colpevole non potrà ripagarci della perdita del nostro concittadino. Indagini andate a buon fine anche per quanto riguarda l'incidente avvenuto in centro a Venafro. I carabinieri hanno individuato l'uomo che ha investito con la sua auto, l'anziano di 72 anni che è ricoverato al Cardarelli in terapia intensiva. L'automobilista si è costituito ammettendo la sua colpevolezza e ora è indagato dalla procura per lesioni gravissime. Grazie.